Stavamo parlando proprio questa mattina di un esterno destro importante per la prossima stagione, è venuto fuori il nome di Asensio e questo pomeriggio vediamo uscire un altro nome sempre per la fascia destra, anche se, attenzione, lo andremo a vedere, si tratta di un talento molto interessante che può essere impiegato su tutti e due i fronti dell'attacco. Sto parlando di Badreddin Buonani, si tratta di un esterno destro come vediamo francese, doppia nazionalità franco-algerina, però come vedete dalle immagini spesso impiegato anche sul settore sinistro soprattutto con la nazionale giovanile francese della quale fa parte da sempre. Quindi si tratta di un talento che probabilmente stanno seguendo da tempo, ha un ottimo dribbling come andremo a vedere a livello statistico, da migliorare sicuramente la fase realizzativa, per lui appena una media di un gol ogni 20 partite, invece considerando partite da 90 minuti quasi un assist ogni due partite. Quindi molto bene negli asti, giocatore che sforna molti cross, va sul fondo, la mette in mezzo, ha una buona visione di gioco, vediamo anche qua mettere interessanti cross col mancino. Quindi si tratta di un calciatore sicuramente da far crescere, non pronto probabilmente per fare il nostro esterno destro della prossima stagione, ma sì per fare da supplente in quei 5, 4, 5, 3 quartisti esterni che potremmo avere rose. Quindi magari trovarci un nuovo Leao dalla Francia, magari non pagandolo 30 milioni come con Leao, perché questo qua si tratta comunque di un calciatore valutato su Transfermarkt appena 2 milioni e mezzo, con caratteristiche diverse da Leao, però cercare di ripetere un'operazione simile. Sappiamo che dalla Francia si possono spesso trovare talenti interessanti, ogni tanto si rimane fregati come con Ballot Touré, però non mi sembra questo il caso, un calciatore valutato relativamente poco, essendo comunque un giovanile francese, che è una delle migliori nazionali giovanili a livello mondiale, a parte in quest'ultimo mondiale Under 20 che non stanno facendo benissimo, però non stanno facendo benissimo, proprio perché hanno tanti calciatori che sarebbero dovuti stare nella squadra Under 20, che invece stanno giocando con le loro squadre in Liga in altri campionati, quindi la Francia Under 20 che state vedendo adesso, il mondiale Under 20, non è quella vera, è probabilmente una Francia Under 18, Under 17, quella che state vedendo, o un Under 20 riserve, mettiamola così. Comunque parlando del calciatore, come vedete può giocare in tantissimi ruoli, escluderei prima punta perché non ha un'ottima media realizzativa, però sì, esterno destro o esterno sinistro. Altro talento quindi da aggiungere alla lista, credo che sia una notizia fattibile anche in questo caso, perché come detto il calciatore è valutato molto poco, sappiamo che in Francia il Milan guarda spesso probabilmente a Moncada, che risiede proprio lì e gira a vedere tutte queste partite giovanili e anche delle Ligan, perché ricordiamo che comunque questo è un talento che ha già presenze in Ligan e parecchie, ha già 4 assist in Ligan, quindi talento sicuramente interessante e probabilmente si può prendere ancora un prezzo accessibile, se no il Milan non si sarebbe fiondato sopra. Anche per oggi è tutto, come sempre un bel mi piace e ci vediamo alla prossima.